Si registra un lieve calo delle nuove infezioni da coronavirus in Sicilia nella settimana dall'11 al 17 aprile. L'incidenza di nuovi positivi, come emerge dai dati del DASOE, riportati ai sistemi di rilevazione dei test antigenici o molecolari e diagnosticati nel periodo è di 30.034, meno 8,3%. Il tasso di nuovi positivi riportati più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina e Siracusa. Le fasce di età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 6 e i 10 anni e tra gli 11 e i 13 anni, incidenze superiori alla media in generale tra i 6 e i 18 anni. Le nuove ospedalizzazioni continuano a diminuire, sebbene la diffusione dei contagi pregressi si rifletta ancora su una prevalenza di soggetti ospedalizzati con positività concomitante da Covid. Circa tre quarti dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risultano al sistema non vaccinati. Si conferma quindi una situazione epidemica acuta nella settimana di monitoraggio trascorsa con una incidenza ancora elevata ma ospedalizzazione in proporzione più contenuta. La curva epidemica è stata sostenuta dalle fasce di età infantili e giovanili. L'epidemia, pur mostrando segnali di arresto, rimane in una fase delicata con un significativo impatto sui servizi territoriali ed assistenziali ma con un netto trend in calo di nuove ospedalizzazioni e proporzioni di casi ospedalizzati molto contenuta in più rispetto ai periodi precedenti, in parte spiegato questo dal riscontro occasionale di positività concomitante al ricovero.